arriveremo anche dalla batteria motore che ce la ritroviamo sulla nostra destra generale 220 a tutto l'impianto il links shant adesso vi spiego che cos'è come funziona però non erano dimensionati bene il lavoro che dobbiamo fare adesso e possiamo avere anche un'altra panoramica un po più completa che mostra appunto tutti i vari carichi incominciamo a fare tutti i cablaggi poi dopo vedremo anche la parte software volendo potremmo andare ad aumentarli buonasera a tutti e bentornati in un altro video come vedete io sono già qua seduto con il mio impianto elettrico qua di fianco perché se vi ricordate bene dall'ultimo video anzi se ve lo siete perso ve lo lascio qua sopra in descrizione o comunque lo trovate nella playlist sul canale per quanto riguarda appunto gli impianti elettrici siamo su questo veicolo veicolo che abbiamo già visto appunto negli scorsi episodi un Imer B580 su base Mercedes di un nostro caro cliente che ce l'ha portato da noi per fare varie lavorazioni abbiamo già visto il Pandora abbiamo già visto l'inizio di tutto l'impianto elettrico che è stata più una riorganizzazione perché abbiamo dovuto tirare via tutto quello che è stato fatto precedentemente non da noi e adesso siamo arrivati al punto cruciale quindi da oggi vedremo come realmente realizziamo un impianto al litio a questo punto da zero perché dobbiamo rifare tutto il cable management fatto in maniera organizzata tutto pulito con il giusto ridimensionamento dei cavi quindi non ci perdiamo in chiacchiere adesso ci tuffiamo qua sotto nel doppio pavimento e vediamo proprio la realizzazione da 0 a 1000 e poi rimanete con noi fino alla fine perché vi faremo vedere quando sarà finito il reale potenziale di tutto questo impianto perché non è un impianto base quindi è già un bel impianto consistente poi dopo andremo a scoprire pian piano anche tutte le varie componentistiche lo capirete benissimo da voi la situazione al momento se vi ricordate è proprio questa dove abbiamo il primo vano principale per quanto riguarda le batterie in questo caso ce ne sono due dell'nds da 150 ampere l'una per un totale di 300 ampere qua avevamo ripulito tutto dai vecchi cablaggi dai vecchi componenti nel primo pozzettino la centralina della shout che però a noi al momento non ci interessa e poi per ultimo ma più importante abbiamo il vano victor non l'abbiamo rinominato così perché come potete vedere adesso accendo anche la luce così ci vediamo meglio abbiamo tutte le nostre componentistiche a parte vabbè il caricabatterie che adesso è temporaneamente fuori ma poi lo andremo a riorganizzare all'interno come vedete con due o tre canaline messe in maniera esterna e anche in mezzo poi dopo ne andremo ad aggiungere altre e tutte le varie componentistiche intorno l'idea e il piano di quest'oggi è appunto andare ad incominciare tutto il cable management sia di questo vano ma soprattutto anche dell'altro delle batterie perché poi tante connessioni che partono da questo vano arrivano giustamente anche le batterie perché poi è proprio dalle batterie che parte tutta la corrente del veicolo ovviamente arriveremo anche dalla batteria motore che ce la ritroviamo sulla nostra destra entriamo dentro gli orion da lì in poi ci struttureremo tutto l'impianto però adesso andiamo a scoprirlo pian piano facciamo una giusta selezione dei cavi per le varie componentistiche e incominciamo subito la cosa sto preparando sto preparando praticamente i connettori che poi come vedete li abbiamo messi dentro i suoi pin crimpati questi qua sono i connettori che poi dopo andranno agli orion xs per il comando sotto chiave in modo tale che quando il cliente avvierà il veicolo quindi si metterà in marcia gli orion incominceranno a prelevare energia per poi dopo ricaricare le batterie al litio ovviamente bisognerà andare a configurarli gli orion incominciamo a fare tutti i cablaggi poi dopo vedremo anche la parte software così adesso lo andiamo a scaldare il termorestringente si chiude e abbiamo anche saldato questa parte qua siamo sicuri che non si va a staccare ulteriormente nel tempo perfetto ok adesso lasciamo temporaneamente in sospeso quella parte di là per dedicarci alla parte anteriore nonché la parte della cabina precedentemente avevamo due cavi che arrivavano per gli orion quindi da direttamente dalla batteria però non erano dimensionati bene il lavoro che dobbiamo fare adesso sarà proprio quello di partire dai poli positivi della batteria abbiamo un paio di linee libere nella canalina questo qua è sempre un doppio pavimento sotto in cabina percorrere questa strada passare sotto il doppio pavimento ed entrare direttamente negli orion che sono lì nella parte di entrata in dopodiché dagli orion dovranno uscire due vie out e out che andranno direttamente dentro il links perché attenzione attenzione poi dopo avremo una sorpresa ci saranno ben due links uno in questo pozzetto e uno nel pozzetto quello principale di fianco alle batterie ma vediamolo man mano non vi voglio spoilerare troppo subito così almeno ci capiamo meglio fino alla fine del video e adesso come potete vedere abbiamo i due cavi che partono dalla batteria con il loro capocordo termorestringente siamo arrivati a questo punto abbiamo fatto arrivare i due cavi dalla batteria per quanto riguarda il DC DC e abbiamo messo anche il fusibile un terzo sulla linea guardate un po' che va direttamente al caricabatterie due eventi che è proprio questo qua adesso poi dopo faremo il cavlaggio per quanto riguarda qua la situazione stiamo fissando tutte le componenti quindi links mpt cerbo i due orion il caricabatterie però volevo farvi vedere abbiamo deciso di andare a mettere anche questo smart battery protector il cliente l'ha voluto 12 24 100 bluetooth il cliente al momento non ce l'aveva è una protezione in più per la sovratensione e la sottotensione di tutto il sistema lo andremo a posizionare dietro l'mpt proprio in questa posizione qua guardate un po' siamo riusciti a farci stare tutto ovviamente ad incastro non è molto semplice perché gli spazi sono veramente piccoli i cablaggi saranno un po' però dovremmo riuscire a farceli stare tutto nelle canaline e quindi alla fine sarà molto molto più ordinato ovviamente adesso senza la calotta del links non è molto bello da vedere ma con la calotta guardate un po' l'effetto più o meno filare che dovrebbe venire tutto blu con le canaline nere quindi ci sta alla grande adesso continuiamo tutti i cablaggi perché appunto ne abbiamo un po' e una volta finito questo reparto poi ci potremmo spostare invece in quello delle batterie spostare invece in questo video ok siamo arrivati a un punto cruciale di tutta questa installazione siete pronti a vedere come sta venendo il tutto vi faccio vedere adesso la prima botola il primo pozzetto quello che poi dopo ci avete visto fino adesso lavorare è finito non è chiuso però adesso vediamo perché ci sono le novità per il secondo pozzetto che poi alla fine comunque è il primo quello delle batterie litio aspettate che giro la telecamera ecco qua com'è la situazione carica batterie 220 collegato due orion collegati cerbo collegato con tutte le sue porte pin hdmi v e direct rg45 usb poi dopo vedremo che cosa sono e lo vedremo soprattutto in funzione perché al momento ancora non è collegato alle batterie quindi non c'è tensione links completamente collegato bisogna andare a chiudere le canaline poi dopo lo faremo manca da collegare il battery protect l'MVT collegato ma pronti a vedere le sorprese invece per questo pozzetto perché come vedete adesso bisogna riordinare anche questo ebbene sì guardate qua che popò di roba allora abbiamo un altro links distributor da mettere in questo posto il links shant adesso vi spiego che cos'è come funziona teoricamente potevamo collegare anche quello a questi due però capite che comunque gli spazi non ce n'erano quindi abbiamo dovuto suddividere un po' le due cose qui andiamo a collegare le altre utenze che sono rimaste e i negativi coglierei l'occasione per farvelo vedere all'interno all'esterno possiamo vedere la luce a led che ovviamente adesso è spenta ma quando sarà collegato avremo il led verde alzando e togliendo la calotta abbiamo la parte sopra della bass bar dei positivi e la parte sotto dei negativi quella sotto dei negativi sostanzialmente è il classico shant che siamo abituati ad avere in poche parole questo qua dove la sua funzione principale è di vedere al suo passaggio sulla linea dei negativi cosa succede all'interno dell'impianto quindi le correnti in gioco infatti c'è proprio uno shant integrato all'interno nella parte sottostante abbiamo due uscite rj45 di cui una delle due si può anche tenere chiusa più che altro perché in questo caso avendo il cerbo posizionato proprio là andremo a connettere sulla prima porta proprio in questa maniera in modo tale che le informazioni verranno trasmesse direttamente al cerbo e di conseguenza al nostro display touch quindi potremo vedere quello che sostanzialmente di solito siamo abituati a vedere tramite il nostro telefono lo vedremo sullo schermo e infine sulla barra dei positivi avremo poi dopo un fusibile che poi dopo vedremo in un secondo momento quando lo andremo a posizionare in modo tale che la linea continuerà a passare e ovviamente continueremo ad avere la tensione su tutta la barra e infine abbiamo anche questa porta rj10 con questo cavetto in dotazione lo andremo a collegare proprio in questa maniera e l'altra parte direttamente al links distributor questo cosa ci serve ci consentirà oltre ad aree e alimentazione per quanto riguarda i led del links infatti vedremo direttamente su links i led che si accenderanno rossi quando non ci sarà il fusibile oppure quando il fusibile nel caso remoto dovesse saltare ce lo dice e la cosa positiva è che grazie a questo cavo rj10 riusciremo a vedere anche i vari allarmi direttamente sul cerbo e quindi di conseguenza sul nostro display e quindi non perdiamo altro tempo andiamo a dare una ripulita una sistemata e incominciamo a fissare tutto questo po po di roba eccoci qua che ci siamo spostati finalmente nel secondo pozzetto e adesso vi faccio vedere la situazione attuale dei lavori che sono andati parecchio parecchio avanti sono praticamente seduto all'interno del pozzetto per essere il più possibile comodo perché qua le posizioni non sono molto agili ecco qua che abbiamo sistemato il secondo links con anche lo shunt links messo sempre di fianco siamo riusciti a portare i cavi dell'inverter negativo e positivo in buzz bar adesso siamo in una situazione dove questo cavo qua è il cavo delle utenze dei negativi che prima c'era una buzz bar qua adesso lo dovremo portare nel links da questa parte di qua ci ritroviamo tutto vuoto ma tra un po' lo riempiamo ci manca da portare il positivo e il negativo direttamente nel links che poi dopo saranno i cavi che usciranno direttamente dalle batterie quindi la strada che faremo sarà questa di destra metteremo lo stacca batterie attenzione il cliente vuole lo stacca batterie anche sul polo dei negativi cosa che è abbastanza superflua però appunto lo vuole quindi lo accontentiamo quindi su questo lato troveremo uno stacca batterie direttamente sulla linea dei positivi l'altro sotto direttamente sulla linea dei negativi qua invece tutto sommato siamo arrivati quasi alla fine ovviamente bisognerà poi dopo richiudere fare qualche accorgimento sistemare le canaline eccetera però in linea di massima ci siamo questo qua è l'interno del links come vedete l'abbiamo praticamente quasi riempito tutto più che altro perché quando si incomincia ad uscire con un 50 mm quadri capite la dimensione dei cavi e quindi il tutto incomincia a stare un po' stretto però abbiamo collegato l'MPT al Cerbo tramite il cavo VE Direct perché appunto c'è una sua uscita dedicata i due Orion sono collegati anche loro col cavo VE Direct ognuno ha il Cerbo perché vi ricordo che i nuovi Orion questi qua rispetto a quelli vecchi hanno l'uscita dedicata VE Direct così si andranno a vederli nel Cerbo di qua abbiamo l'RJ45 che va direttamente al MultiPlus da quest'altra parte qua abbiamo la prolunga USB per collegarsi poi al GX Tank che è nella zona sottola dei serbatoi che lo vedremo in un altro video siamo usciti con il suo cavo di alimentazione questo qua positivo e negativo abbiamo collegato anche i vari pin per quanto riguarda il relay delle ventole se vi ricordate bene le ventole che appunto abbiamo deciso di andare a mettere sul frigor e tutto sommato qua le connessioni sono finite però adesso non ci perdiamo in chiacchiere di lavoro ce n'è ancora tanto quindi vediamo di concludere questo pozzetto così almeno poi dopo accenderemo tutto il sistema e vedremo insieme i vari funzionamenti e come funzionano i singoli componenti di tutto questo ecosistema Victron a questo punto perché a parte le batterie che il cliente ha voluto ottenere quelle dell'NDS tutto il resto è completamente Victron abbiamo dovuto cambiare anche i capicorda perché erano troppo piccoli e non c'entravano nella buzz bar dei negativi per quanto riguarda l'INX quindi abbiamo rifatto i capicorda col termorestringente quindi adesso è tutto a misura giusta quindi procediamo ad andare ad inserire nella buzz bar dei negativi e poi continuiamo tutto con l'organizzazione generale di questa botola tra l'altro come già detto qua non si butta via niente infatti guardate un po' abbiamo preso questo legno che era quello del cliente che ci aveva sotto nel primo pozzetto sotto gli Orion vecchi infatti l'abbiamo tolto per metterli allineati però ovviamente non lo buttiamo ma adesso lo andrò a riutilizzare per andare poi dopo d'appoggio per quanto riguarda gli stacca batterie positivo e negativo come vedete qua c'è il polistirolo della coibentazione del doppio pavimento che ovviamente non si può andare a forare questo io ho tagliato a misura il legno quello utilizzato nel primo pozzetto lo andrò a mettere proprio qua con delle staffette che lo tengono saldato al legno che c'è già e attaccato a questo ci andrò a mettere lo stacca batteria positivo e negativo ma anche una bass bar dei negativi perché abbiamo talmente tanti fili che tutti i links non ci stanno e quindi per farglielo più ordinato andremo poi dopo a fare una bass bar dei negativi qua però adesso continuiamo e poi dopo vediamo il risultato finale eccoci qua finalmente giunti alla fine di questo video ma come avete ben visto dobbiamo farvi vedere che cosa abbiamo creato quindi abbiamo visto lo stato all'inizio di tutto l'impianto elettrico lo svolgimento quindi che abbiamo tolto tutto abbiamo rifatto abbiamo ricablato le canaline eccetera adesso però è arrivato il momento clou del video quindi rimanete connessi ancora un pochino vi facciamo vedere come è stato ricostruito tutto l'impianto e soprattutto lo vediamo in funzione io direi subito di aprire la bottola principale dove all'interno ci ritroviamo le batterie che abbiamo visto all'inizio sono rimaste le due batterie dell'nds da 150 ampere l'uno ma qualcosa direi che è cambiato innanzitutto il cable management è tutta un'altra cosa poi dopo scriveteci sotto voi nei commenti cosa ne pensate dell'ordine che è stato fatto i cablaggi erano davvero davvero tanti quindi abbiamo un pochino tribulato per riuscire a farci stare tutto nel migliore dei modi abbiamo le due batterie davanti troviamo il links shunt sulla nostra sinistra e il links distributor sulla nostra destra al momento sta segnando una spia rossa più che altro perché questa parte qua non c'è il fusibile perché non abbiamo utilizzato una via quindi già vi dico che nel momento che o si brucia un fusibile o comunque completamente assente vi segnerà un led rosso ma se non vi arrivano avvisi sul cerbo non vi dovete preoccupare sulla parte sinistra troviamo una busbar per quanto riguarda le utenze in questo caso abbiamo il riscaldamento, lo scalino, il router, i piedini, il generatore perché erano tutte utenze che appunto ci siamo trovati dal cliente e li abbiamo messi sotto busbar separata dei positivi sulla nostra destra invece troviamo non uno ma ben due stacca batterie in origine ce ne erano due il cliente ha voluto tenere sia quello sui positivi e sia quello sui negativi però come potete vedere li abbiamo messi in maniera più ordinata invece sotto nella parte in basso c'è un'altra busbar per quanto riguarda i negativi però come potete vedere il primo reparto è stato completato adesso però passiamo all'altro dove c'è tutto il succo dei prodotti Victron in questo caso direi che abbiamo un pochino più da parlare allora io partirei subito dal Links Distributor che avevamo visto aperto adesso finalmente chiuso idem stesso discorso anche qua c'è un'uscita che non è stata occupata dal fusibile quindi ci segna rosso quindi abbiamo il Links Distributor dove al suo interno arrivano i due cavi dell'Orion in uscita quindi carica tramite alternatore che adesso poi dopo vedremo come si comporta tutte le canaline sono state chiuse e anche qua abbiamo fatto un bel po' di fatica perché i cablaggi erano davvero molti il Cerbo GX tutto cablato il suo MPPT che già c'era gliel'abbiamo messo anche qua in maniera più ordinata ci tengo a rispondere ad alcuni di voi che ci hanno scritto nello scorso video per quanto riguarda l'MPPT che è stato messo in maniera orizzontale lo sappiamo che queste tipologie di componenti vanno messe in maniera verticale per riuscire a sfruttare la dissipazione tramite le lamelle posteriore però capite bene che stiamo parlando comunque di un MPPT 100-20 il vattaggio che abbiamo sopra sono due pannelli da 110 l'1 per un totale da 220 quindi non avremo mai così tanti amperaggi da scaldare questa componentistica qua quindi in questo caso abbiamo optato per tenerlo in maniera orizzontale perché un surriscaldamento vero e proprio non ci sarà a differenza degli Orion quelli vecchi da 12-30 che quelli si producendo un 360 watt l'1 allora erano da mettere per forza in maniera verticale poi passiamo al Battery Protect che questo qua è direttamente collegato alla bass bar dei positivi che abbiamo visto prima di tutte le utenze qua dietro nascosto abbiamo lo smart angle che ci rende Bluetooth il MultiPlus e tutto sommato la disposizione è questa siamo riusciti a scalare leggermente i magnetotermici per quanto riguarda la linea 220 e la scatola di derivazione così abbiamo fatto molto più spazio anche qua il cable management ce l'abbiamo fatta nel limite degli spazi a farlo in maniera più ordinata e il cliente l'ha già visto ed è più che soddisfatto per quanto riguarda dell'esito finale adesso direi di passare temporaneamente la palla al nostro tecnico specializzato Diego che si occupa di tutta la parte di configurazione per quanto riguarda cerbo schermo touch eccetera così almeno vi spiegherà un pochino nei minimi dettagli che cosa si può vedere sullo schermino del cerbo e che cosa sostanzialmente si può fare scriveteci qua sotto se volete un video dedicato per quanto riguarda la programmazione che facciamo noi la parte appunto di Victron così da portare un nuovo contenuto sul canale per quelli di voi appunto un pochino un po' più nerd che sono interessati sull'argomento allora in questo camper qua abbiamo montato il cerbo GX con il monitor versione 50 che mostra praticamente una panoramica completa del sistema Victron installato quindi ci mostra lo stato della batteria, gli assorbimenti quindi in questo caso ci fa vedere che c'è un assorbimento di 87 watt meno 6,6 ampere ci sta mostrando che il MultiPlus sta invertendo in questo momento perché non abbiamo ancora attaccato una fonte 220 alla presa esterna quindi sta utilizzando le batterie interne appunto per generare 220 a tutto l'impianto abbiamo i carichi CA che sono i carichi appunto a 220 tutto quello che è connesso all'impianto e che si sta utilizzando la corrente alternata ci mostra lo stato dei pannelli solari che in questo momento stanno caricando per 5 watt e in questa zona vediamo appunto stiamo consumando 57-55 watt in corrente continua il MultiPlus inoltre qua mostrerebbe anche quanto carica con la corrente alternata attaccandoci alla colonnina che però al momento non è connessa quindi non essendo connessa non mostra assolutamente nulla andando nella passione successiva una breve panoramica quindi stato della batteria, stato del MultiPlus, l'ora attuale, l'ingresso, i vari carichi e possiamo avere anche un'altra panoramica un po' più completa che mostra appunto tutti i vari carichi, lo stato anche dei serbatoi in questo momento sono sconnessi però mostra anche quello tutto lo stato appunto complessivo del sistema io direi ora di passare un pochino alle prove pratiche visto che abbiamo un MultiPlus da 3000 watt quindi utilizziamolo un bel po' accendiamo il nostro condizionatore della Telaire così almeno vediamo un pochino come spinge tutta la situazione adesso ovviamente non siamo collegati alla presa 220 il condizionatore direi che è partito siamo a 25 gradi ma la temperatura impostata ce l'abbiamo di 16 andiamo a vedere sullo schermino del cerbo che cosa sta succedendo abbiamo un carico da 985 watt stiamo prelevando un totale di 1138 dalla batteria che è l'84% per un totale di 88 ampere ovviamente come possiamo vedere il voltaggio adesso si è abbassato a 12,8 ma è normale perché siamo sotto sforzo di solito a tensione normale siamo sui 13,2-13,3 stiamo consumando qualcosina per quanto riguarda la corrente 12 volt ma il carico maggiore ce l'abbiamo a 997 watt per quanto riguarda l'inverter andiamo un pochino più nello specifico vediamo in questa situazione quanto noi possiamo volendo rimanere in libera infatti se entriamo nel Lynx Shunt ci dice la tensione a 12,8 meno 91 ampere, 1169 watt, stato della carica 83%, temperatura della batteria 37 gradi ampere ora consumati fino ad adesso 35 ampere, tempo restante un'ora quindi in queste condizioni ne possiamo garantirci un'ora di autonomia questo ve lo dico perché in tanti di voi ci chiedono sempre ma io voglio montare il condizionatore, voglio rimanere in libera il condizionatore capite che con questi carichi quando ne vi diciamo dovete avere un serbatoio di batterie bello grande e soprattutto un inverter che tiene il tutto questa è la motivazione perché non potete pretendere di fare magari 3, 4, 5 ore in libera con un carico del genere ma adesso io direi di metterci qua alla guida accendiamo il mezzo, il condizionatore è ancora acceso quindi il carico ce l'abbiamo adesso facciamo delle prove a vedere in stato di guida i due Orion da 50A l'1 come lavorano innanzitutto vi anticipo che li abbiamo ottenuti apposta a 40A l'1 più che altro perché il cliente non ha un alternatore troppo potente quando abbiamo degli alternatori non dico poco potenti ma normali decidiamo di non apposta sfruttare tanto la potenza quindi di rimanere sotto il 50% delle possibilità perché capite bene che è molto meglio preservare la vita dell'alternatore che bruciarla per fare andare tanto gli Orion e caricare velocemente la batteria tanto comunque se nel caso fate un'ora due o tre ore di guida la batteria state pur certi che si caricherà sicuramente e poi comunque una cosa che raccomandiamo sempre di non scaricarla troppo comunque sotto il 20 sotto il 30% in modo tale prima cosa la ricaricherete molto più velocemente e seconda cosa comunque preserverete anche la vostra batteria di servizi più a lungo nel tempo andiamo ad accendere il mezzo ok il gradino è salito in automatico non so se avete sentito adesso aspettiamo un attimino vediamo gli Orion come si stanno comportando e automaticamente quanto stanno buttando in batteria lo possiamo vedere anche sul nostro GX Touch ma visto che siamo alla guida io adesso andrò a registrare lo schermo del cellulare visto che possiamo vederli anche in bluetooth perché vi ricordo tutti i prodotti quasi tutti i prodotti della Victron hanno la funzione bluetooth quindi potete vederli tramite l'applicazione Victron Connect molto comoda come potete vedere al momento stiamo registrando una tensione in entrata di 13.4 volt una tensione di uscita di 13.2 e 13.3 vedete che funzionano in sincrono e tutte e due stanno generando una corrente in ingresso di 40 ampere e una corrente in uscita anche quella di 40 ampere volendo potremmo andare ad aumentarli in questo caso vediamo anche lo Smart Solar che stia producendo un 9 watt prima fase però oggi purtroppo è nuvole dei tardi quindi non ci si può aspettare più di tanto però come vedete gli Orion funzionano tutte e due in ugual misura se vi ricordate all'inizio quando avevamo fatto tutto lo smontaggio il cliente lamentava delle discrepanze per quanto riguarda gli Orion quindi erano collegati con un pochino di confusione in questo caso possiamo vedere che questa problematica l'abbiamo tranquillamente risolta adesso spostiamoci tranquillamente nel reparto del Link Shunt per vedere cosa sta succedendo sul monitor come potete vedere stiamo consumando sempre 1100 watt per quanto riguarda il condizionatore siamo ancora in carenza di meno 17 ampere però se andiamo nel menu vediamo che gli Orion lavorano a 540 watt l'uno quindi 80 ampere meno 18 nel caso gli Orion fossero spenti comunque noi avremo molto più consumo questo per farvi capire che anche in marcia si può utilizzare il condizionatore ovviamente vi scaricherà sempre qualcosa a meno che gli Orion non li portiamo a 50 ampere l'uno abbiamo volutamente portato gli Orion invece a 50 ampere li abbiamo settati e come vedete adesso la discrepanza è leggermente meno siamo a meno 11 ampere prima era 17 o meno 20 ampere vi voglio far vedere ulteriormente una cosa adesso sto accelerando appositamente avendo uno smart alternator possiamo vedere che gli Orion avendoli settati a 50 ampere non più a 40 ricevono molto più correnti d'ingresso quindi 50 e 50 quindi sono a massima potenza e la corrente in uscita come state vedendo è a 50 ampere 49 50 se entriamo in uno dei due Orion vi faccio vedere un pochino anche le impostazioni vedete che corrente in ingresso 50 ampere corrente in uscita 50 ampere andando su impostazioni batteria l'abbiamo apposta settata noi a tensione di assorbimento 14 20 e tensione di accumulo 13 e 50 perché a queste sono le impostazioni della batteria quindi quando andiamo noi a settare le impostazioni per quanto riguarda il mppt orin eccetera ovviamente guardiamo sempre il manuale della batteria noi le batterie victor normalmente conosciamo però in questo caso abbiamo una batteria nds quindi abbiamo dovuto guardare la scheda tecnica per vedere poi dopo l'impostazione che va fatta per quanto riguarda la carica della batteria perché vi ricordo che non tutte le batterie sono uguali non tutte le batterie vengono caricate la stessa maniera e quindi bisogna fare affidamento della scheda del produttore però come potete vedere gli Orion spinti al massimo riescono a produrre un 50 ampere e andando a vedere sullo shunt links adesso che sono impostati a 50 ampere guardate con un consumo di 1130 watt riusciamo ad essere in positivo quindi in queste condizioni abbiamo energia infinita solamente mentre stiamo guidando però vi ricordo quindi possiamo dire che gli Orion sono stati settati al massimo della loro efficienza e stanno producendo quello che il cliente alla fine si aspettava come potete vedere 49 ampere 50 ampere 673 watt 669 watt l'uno quindi davvero davvero super top di configurazione io direi che a questo punto siamo arrivati alla fine di questo super video scriveteci pure qua sotto tutte le domande che avete noi come sapete cerchiamo di rispondere a tutti chiamateci pure in sede veniteci qua a trovare a porto mantovano tanto poi dopo sotto in descrizione trovate tutti i nostri contatti senza nessun tipo di problema vi ricordo che nelle prossime settimane usciranno dei video super importanti per quanto riguarda i nostri sensori super sense per il controllo delle acque chiare e delle acque grigie che abbiamo appunto installato su questo mezzo abbiamo voluto apposta differenziare i due video almeno ci possiamo concentrare su un unico prodotto e riuscire a spiegarvelo al meglio vedremo anche i sensori per quanto riguarda il gas e che dire grazie mille a tutti per essere arrivati fino a qui e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao